Ciao, Dakota! Parla forte! Passiamo alla sfida! Cosa? Adesso? Nel cuore della notte! Quando è tutto... come dire... Buio? Fin da quando ero piccolo, odiavo il buio. Gli scricchioli e... Chi è là? Ehi, battele via! Non avete pagato la bolletta? Non c'è? Se ne stanno andando, forza! Chi è là? Dov'è Zoe? Zoe? Zoe! E interrompiamo le ricerche e andiamo avanti. Ma è contrario al codice d'onore. Mai lasciare indietro un soldato! Zoe! Non la stiamo lasciando qui. Se ne è andata lei, è assente e ingiustificata. Muoviti, bricco di latte! Joe è come questo insetto. Cerca sempre di entrarmi sotto la pelle. Interrompiamo le ricerche e andiamo avanti. Ma è contrario al codice d'onore. Mai lasciare indietro un soldato! Zoe! Non la stiamo lasciando qui. Se ne è andata lei, è assente e ingiustificata. Muoviti, bricco di latte! Zoe! Joe è come questo insetto. Cerca sempre di entrarmi sotto la pelle. Vuoi dire da soli? Aiuto! Aiuto! Aiuto, buio! Buio! Paura, buio! Brick, prendi la mia mano! Troppo buio! Troppo buio! Brick, torna in te! Era bagnato là sotto e sono atterrato sui gingilli. Vi asciugo e torno. Forza, asciugati! Resistete, ragazzi! Vengo a salvarvi! No! Prendi l'uncino, piscialletto! Devo salvare i miei compagni di squadra. No, tu devi vincere! Qualcuno deve pur farlo! Ma il codice d'onore! Non posso abbandonarvi qui così! Ha detto scattare, soldato! È un ordine! Signor sì, signore! E che cos'è questo odore di pipì? Eh? Io... Io non sento niente. Bene, bene. Entrambe le squadre sono arrivate al traguardo. Alcuni più bagnati di altri. Ehi, la caverna perde acqua. Comunque sia, la squadra vincente di oggi è quella... dei ratti! Cosa? Ma è assurdo! Sono arrivato primo! Vi ho detto state incollati perché c'è una penalità per chi perde un concorrente. Beh, voi ne avete persi cinque, Sam ne ha persi solo due. Quindi i ratti vincono su tutta la linea. Sì! No! Perché non ho rispettato il codice d'onore? Forse Joe e Brick vogliono baciarsi per fare pace. Non credo proprio. Dov'è Chef con il marshmallow della sconfitta? Posso parlare? Vorrei essere eliminato, signore. Non posso restare qui. Non ho rispettato il codice d'onore. Non scherzare, Sir Pisciolotto. Va bene, ho paura del buio. Gli occhiali per la visione notturna servono a questo. Non ce l'avresti mai fatta nel mio squadrone! Riposo, soldato! La larva eliminata di stasera sarà il nuovo ratto di domani. Non faccio il lancio della vergogna? No! Da questo momento in poi, Brick e Joe combatteranno nelle due squadre antagoniste. Grazie, signore! Rispetterò il codice, signore!